numero 5 questa asciugatrice aeg è una scelta ideale per chiunque cerchi un'eccellente capacità di carico e un'ampia varietà di programmi con una capacità di 8 kg questa asciugatrice può gestire facilmente grandi carichi di lavaggio rendendola perfetta per le famiglie numerose o per coloro che hanno bisogno di asciugare molti indumenti in una volta sola la classe energetica più più garantisce che l'asciugatrice sia efficiente dal punto di vista energetico aiutando a ridurre i consumi e a risparmiare sui costi delle bollette con un consumo medio annuo di soli 235 kilowattora si può essere sicuri di fare una scelta ecologica e sostenibile trovi il link di questo articolo in descrizione numero 4 questa asciugatrice aeg è un'eccellente scelta per chi cerca un elettrodomestico che offra alte prestazioni e consumi energetici contenuti con una capacità di carico di 8 kg e una classe energetica di fascia più 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 garantisce un funzionamento efficiente che riduce al minimo gli sprechi di energia tra i punti forti di questo prodotto spiccano i programmi a durata selezionabile che consentono di personalizzare l'asciugatura in base alle proprie necessità inoltre i programmi per diverse tipologie di tessuti offrono una soluzione adatta per ogni tipo di lavaggio trovi il link di questo prodotto in basso nella descrizione numero 3 questa asciugatrice aeg è un prodotto che sicuramente soddisferà le esigenze di coloro che cercano efficienza e affidabilità con una capacità di carico di 8 kg è perfetta per gestire il bucato quotidiano di una famiglia media la classe energetica più 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 garantisce consumi ridotti e una minore spesa energetica un aspetto sempre importante quando si tratta di elettrodomestici uno dei punti di forza di questa asciugatrice è la sua asciugatura delicata grazie al sensore di umidità integrato l'elettrodomestico rileva il livello di umidità presente nel bucato e si adatta di conseguenza se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione numero 2 questa asciugatrice aeg è un prodotto che si distingue per la sua efficienza energetica e per la sua capacità di asciugatura a temperature moderate con una capacità di carico di 8 kg e una classe energetica più 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 offre una soluzione ideale per coloro che cercano un elettrodomestico che consumi meno energia possibile uno dei punti di forza di questa asciugatrice è il suo cestello delicato sui tessuti che garantisce la protezione dei capi anche più delicati come quelli in lana ciò significa che puoi avere la tranquillità che i tuoi capi saranno trattati con cura durante il processo di asciugatura trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video numero 1 questa asciugatrice aeg è un'eccellente scelta per chi desidera ottenere risultati di asciugatura impeccabili senza danneggiare i propri capi delicati con una capacità di carico di 8 kg e una classe energetica più più offre prestazioni efficienti ed ecologiche uno dei punti di forza di questo modello è la velocità dei cicli che permette di asciugare i vestiti in tempi relativamente brevi inoltre il cestello delicato tratta con cura i tessuti più sensibili garantendo che i capi vengano trattati nel modo migliore possibile puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione aeg iscriviti al canale